Andiamo avanti ancora nel nostro viaggio, nel nostro dialogo, adesso un'esibizione musicale, dal vivo, in questo caso, di Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare 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 Rama, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 grazie